buongiorno a tutti bentornati nel canale di simona cartomante allora oggi che cosa che cosa facciamo oggi facciamo un video uno dei video appunto periodici qua sul mio canale di cartomanzia voglio mostrarvi questa volta un mazzo sempre di sibille qui in questo caso si tratta di carte che io essendo stata per svariati anni abbonata alla rivista astra che è una rivista che tratta di astrologia penso che la conosciate un po tutti vi dicevo sono stata abbonata per per alcuni anni e periodicamente appunto la rivista usciva con in omaggio adesso non ricordo se c'era un supplemento da pagare di carte queste sono sempre delle sibille queste in questo diciamo è un altro mazzo di carte che io ho utilizzato poco non le trovo particolarmente interessanti anche se le ho usate comunque un pochettino soprattutto agli inizi e comunque ci tenevo ci tenevo a mostrarvele ecco allora cominciamo come sempre dalla dalla prima carta qui abbiamo uomo con lettera qui abbiamo uomo con giornale spero che è riusciata a vedere bene anche diciamo così colori giovane e due bambini i disegni sono sono piuttosto sono piuttosto classici ecco qui abbiamo donna con scopa poi abbiamo donna con ancora e sono hanno questo diciamo così questo effetto un pochino diciamo ecco queste carte serpe tra i fiori particolare militare ragazza bionda donna con fiori le ho usate le ho usate soprattutto agli inizi come vi dicevo prima poi diciamo altre carte hanno preso hanno preso il sopravvento però devo dire che come potete ben vedere non sono malvagie insomma ecco anche le illustrazioni sono ben fatte ghirlanda donna incinta sacchi di denaro donna con ombrello mercante cane con busta sono sono simpatiche ecco non le trovo non le trovo eccezionali a prescindere dal fatto che insomma credo siano carte che non si trovano non credo le mettano ancora all'interno della della rivista anche perché parliamo di svariati anni fa ecco diciamo che il mio abbonamento alla rivista astra risale 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 a parecchi anni fa insomma ecco quindi non so dove si potrebbero reperire oggigiorno queste oggigiorno queste queste civile però sono comunque belle sono piacevoli sono comunque un mazzo di carte che io conservo che amo però ripeto non 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 le uso tantissimo le ho usate soprattutto devo dire soprattutto devo dire nei primi nei primi nei primi tempi ecco in cui mi diciamo così mi sono appassionata a questa arte per cui diciamo che queste carte che si trovavano all'interno delle riviste in quel a quell'epoca diciamo così facevano facevano al caso mio ecco anche per oggi abbiamo finito video molto breve solo per appunto per farvi vedere queste queste altre sibille io come sempre vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo che ci sono in programma video di anche cartomanzia interattiva che io faccio diciamo a modo mio come come ritengo come ritengo più opportuno in base soprattutto soprattutto alla mia esperienza insomma come vi dicevo sono diversi anni che pratico la cartomanzia vi saluto vi ringrazio di nuovo se avete qualche dubbio qualche richiesta qualsiasi cosa scrivete scrivetemi pure nei commenti qua sotto e io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao alla prossima